Passare quindi alla, come si dice, last but not least, esperta di comunicazione e professoressa John Cabot insegna a studenti e professionisti e organizzazioni come usare la comunicazione come uno strumento strategico per la propria professione. Ogni giorno sfida se stessa in inglese e in italiano, Michelle Faberich. Grazie per essere qui. Grazie. Funziona? Vediamo se so andare avanti gli slides. Sempre. Ok. Allora, buonasera. Io al contrario di tutti gli altri non ho una storia personale da raccontare, mi dispiace, ma racconto un po' quello che studio e quello che insegno. Intanto io sono mezza americana e insegno in un'università americana, perciò io porterò un po' di esempi dall'America. Parlerò di economia, di business e di quello che io ritengo sia la più grande energia che sta uscendo dalle nostre collettività a livello universale. Allora, nonostante, e mi rifarò molto a quello che è stato detto prima dai nostri speaker, specialmente dai primi due e in particolare da Paolo. Allora, nonostante l'incertezza diffusa che regna nelle nostre società, io penso che noi siamo tutti certi di una cosa e siamo tutti d'accordo su una cosa. Che il cambiamento che stiamo attraversando è un cambiamento stratosferico. I ritmi del cambiamento, fino a pochissimo tempo fa, erano ritmi graduali, lineari, progressivi. Ma come diceva Paolo prima, i ritmi oggi sono diventati esponenziali. Allora, esponenziali... Un esempio, oggi in media le nostre conoscenze raddoppiano in un anno. Straordinario. Le conoscenze che noi abbiamo raddoppiano in un anno, mediamente. Nella storia il primo raddoppio ha impiegato mille e cinquecento anni. Un altro esempio. In un anno produciamo gli stessi dati che sono stati prodotti dalla preistoria al 2014. In un anno. Ok. Bene. Allora, c'è chi vede questi cambiamenti e il grande stravolgimento come qualcosa di straordinario e c'è, invece, chi lo vede in maniera negativa. Per alcuni, tecnologia e innovazione creano una società e creeranno una società sempre più democratica, equa, ricca, dinamica ed efficiente. E per questo gruppo è un bene, per esempio, che il 40% circa delle maggiori imprese americane scompariranno nel giro di solo dieci anni. 40% in dieci anni. Queste sono le previsioni attuali. Invece, e altri ritengono che innovazione, tecnologia, non fanno altro che creare instabilità, disgregazione. E che, nella migliore delle ipotesi, l'innovazione sia solo un mantello di superficie sotto al quale non cambia veramente niente. Per esempio, la rivoluzione in Egitto ha avuto luogo grazie ai social media. Ok. Ma, tutto sommato, un regime autoritario è stato capovolto e un regime molto simile è venuto su al suo posto. Ha cambiato veramente molto? Forse no. Allora, io penso che nessuna di queste due visioni sia particolarmente interessante per il tema di oggi. C'è qualcos'altro che sta avvenendo e sta avvenendo molto velocemente. E questo è un riequilibrio dei poteri all'interno della società a favore dell'individuo. Questo sì. Questo trasforma tutto e rivoluziona tutto. Il potere vecchio, il potere di una volta, era un potere concentrato, concentrato gelosamente nelle mani di pochi. Era inaccessibile, era esclusivo ed era esercitato dall'alto verso il basso. Il potere nuovo, al contrario, è aperto, è distribuito, è inclusivo e trae la propria forza dalla condivisione. è un potere che trasforma tutto e che permette agli speakers che abbiamo sentito oggi di fare quello che loro fanno e di raccontare queste testimonianze. Oggi vi voglio parlare un po' di questo nuovo potere, di come la vedo io e un po' vi parlerò di come è nato e come si è sviluppato anche un po' per deformazione personale perché io sono laureata in storia e allora cerco sempre di andare un po' indietro e cercare le cause e un po' vi parlerò di quello che sta avvenendo ora e di come cambierà il rapporto dell'individuo con le istituzioni. Allora, prima di tutto, cosa cambia? Cambia il primo step, naturalmente, è stato l'arrivo di internet, il fatto che internet è stato messo nei browsers che noi usiamo su tutti i nostri computer e che internet ci ha permesso l'accesso alle informazioni. Informazione è potere. In inglese c'è una bellissima parola, empowerment. Empowerment vuol dire acquisizione di potere. Un individuo informato è un individuo che ha potere. E questo individuo esigerà sempre di più informazioni precise, sofisticate e le vorrà in tempo reale. Il processo è irreversibile e non si torna più indietro, naturalmente. La seconda fase è stata la capacità di condividere tutte queste informazioni attraverso piattaforme digitali, social media, che ci permettono di individuare le persone che la pensano come noi per scambiare informazioni e opinioni, trovare risposte alle nostre domande e creare gruppi di interesse grazie ai quali riusciamo a esercitare pressione. Secondo una recente ricerca americana, la forma di informazione commerciale più persuasiva è rappresentata dalle opinioni di altri consumatori. Quello che in inglese si chiama il word of mouth e che è usato molto nel marketing, word of mouth. Il 62% dei consumatori legge recensioni online e l'82% segue i consigli di altri utenti. L'82% segue i consigli degli altri utenti. Perciò si ha prevalentemente fiducia nell'opinione di altri utilizzatori e non nell'opinione delle aziende o di altre istituzioni. Nel 2015 l'Italia era al quart'ultimo posto in Europa per la fiducia che gli individui pongono in aziende e altre istituzioni. al quart'ultimo posto in Europa. E finalmente la terza fase è stata una crescita di desiderio da parte di tutti noi di andare oltre alla condivisione. e cioè di esprimere quello che ormai un po' tutti riteniamo sia un nostro diritto inalienabile e cioè quello di essere protagonisti della creazione, della produzione, della definizione, della realizzazione di quello che ci sta più a cuore. Non vogliamo più essere passivi, vogliamo essere protagonisti. e questo ci permette di eliminare burocrazie, costi, inefficienze e di personalizzare la nostra richiesta. Una teenager come mia figlia che ha 15 anni e che produce fotografie per Snapchat e video per Youtube crea contenuto, spesso di altissimo livello. Una persona che sul sito della Nike, della Nike, disegna le proprie scarpe scegliendo i colori, le forme e i dettagli realizza la scarpa dei suoi sogni e non si accontenta di quello che gli propone l'azienda. Il lavoratore super competente, che oggi si chiama il knowledge worker, cioè il lavoratore delle conoscenze, che valuta un'azienda versus un'altra azienda, vuole molto di più di un posto di lavoro o di una carriera. vuole poter determinare quella che dovrà essere una esperienza motivante, significativa e premiante e vorrà poter far sentire la propria voce in quell'azienda. Se tutto questo è estremamente positivo per tutti noi, che cosa significa per gli altri attori della collettività? È uno stravolgimento in tutti i campi. Riuscire a stare al passo con le esigenze e le pressioni che vengono dal basso sta portando a una vera e propria trasformazione nel modo in cui viene concepito il rapporto con l'individuo. Guardiamo il caso delle aziende. Per le aziende non è per niente facile oggi e lo sarà sempre meno in futuro soddisfare consumatori che sono iper segmentati, critici, scettici, informati, impiccioni, connessi e che vogliono partecipare, condividere, creare, che non si fidano delle aziende, che esigono molto di più di un messaggio pubblicitario o un prodotto standardizzato e che per giunta hanno sviluppato un rapporto completamente nuovo con il brand, il marchio. L'individuo oggi, o perlomeno molti di noi ormai, e specialmente i più giovani, i cosiddetti millennials, oggi considerano il brand, un marchio, qualcosa che appartiene quasi più a loro che non all'azienda. Vogliono stabilire un rapporto di fiducia con quel brand e vogliono potersi identificare in un brand che rispecchia il loro stile di vita, i loro sogni e i loro valori. È una bella sfida per le aziende. E allora cosa fare? Mi dispiace che non c'è qui la nostra speaker di Vodafone, perché Vodafone è molto avanti in questo. La prima cosa sicuramente è di essere trasparenti. Sapere ascoltare e sapersi raccontare in maniera sincera e spontanea. Essere capaci di suscitare emozioni. Ma fondamentalmente le aziende devono essere pronte a fare qualcosa di molto più radicale. E cioè cedere una buona parte del potere al consumatore stesso, permettendogli di co-creare e co-partecipare. Naturalmente quanto più ci si apre e si condivide, tanto più si è vulnerabili. E allora non è un caso che ancora oggi la maggior parte delle aziende non ha fatto questo passo avanti, innovativo nel modo in cui si relaziona con gli individui. Ma se partiamo dal presupposto che anche senza il consenso dell'azienda il consumatore sia individualmente che attraverso gruppi condivisi eserciterà un potere sull'azienda ancora maggiore di quanto non ne abbia l'azienda stessa, allora abbracciare la condivisione è l'unica strategia vincente. Se un'azienda riesce a creare questo tipo di engagement, i consumatori la premieranno. È da questo tipo di bisogno aziendale che è nata una vera e propria branca del marketing. una novità nel marketing, una disciplina che esiste da molto tempo. E questa nuova branca si chiama content marketing e storytelling. Un modo non commerciale per raccontare l'azienda e umanizzare il brand spalmando la propria presenza su diverse piattaforme digitali ognuna delle quali viene usata con uno scopo molto specifico. L'obiettivo è creare nei consumatori engagement, dialogo, fidelizzazione. Tutto questo, non basta che lo faccia l'azienda in maniera autonoma, deve farlo il leader, il capo. Il leader dell'azienda di oggi e del domani deve sapersi raccontare a 360 gradi. i consumatori vogliono sapere che si tratta di una vera persona, di un vero essere umano e non solo di un manager. In che cosa crede? Che cosa pensa sui grandi temi? Quali sono i suoi hobby? Cosa lo rende davvero speciale e unico? Più il leader si racconta, più apparirà autentico. e un leader che non appare autentico non avrà mai nessuno che lo segue, specialmente oggi. Non a caso i leader delle aziende più innovative, come Virgin e come Richard Branson, si raccontano su più piattaforme digitali in maniera del tutto innovativa, non parlando quasi mai dell'azienda, ma parlando delle loro idee e di come loro vedono il mondo. Questi sono sforzi enormi per qualsiasi azienda, ma i vantaggi sono straordinari e illimitati. Avere i consumatori dalla propria parte vuol dire, tra l'altro, prima di tutto, ricevere un incessante flusso di informazioni fresche, attuali, gratuite, dal mercato, che sono spesso molto più interessanti di studi di marketing costosi e poco pertinenti. Vuol dire anche diventare i consumatori, far diventare i consumatori dei promotori spontanei del brand, una specie di ambasciatore dell'azienda. Saranno loro, infatti, a farsi carico di promuovere l'azienda, condividendo le loro esperienze, i loro racconti, i loro video, le loro foto e mettendo l'azienda in buona luce. Ci sono tanti casi di aziende che riescono a creare questo tipo di rapporto con i consumatori e che sono premiate istantaneamente. In America c'è un'azienda, non so se voi l'avete mai sentita nominare, che si chiama Taco Bell. Taco Bell è una catena di ristoranti fast food messicani. Ha un rapporto talmente stretto con i propri consumatori che lo slogan che questi signori hanno quando parlano su Facebook dell'azienda è «Taco Bell, will you marry me?» «Taco Bell, mi sposi?» Cioè il consumatore è innamorato dell'azienda al punto che se la sposerebbe. Ecco, questo è un esempio straordinario di come il consumatore stesso si fa promotore della buona immagine dell'azienda. e più sono fidelizzati, più saranno loro a difendere il brand se viene messo sotto attacco. Aziende come Coca Cola, Nike, Ford sono molto bravi a fare tutto questo. Ma c'è un'azienda che è la regina indiscussa in questo campo. E questa è Pepsi Cola. Pepsi Cola è un brand che è un'azienda che al suo interno ha moltissimi brand tra cui forse noi, beh, a parte Pepsi Cola e la bibita, ci sono tantissimi brand di prodotti alimentari. Quello che Pepsi Cola riesce a fare, ed è veramente un esempio un po' per tutte le aziende, è rendere i consumatori i veri protagonisti permettendogli di creare nuovi prodotti e di creare perfino la pubblicità dell'azienda. Per esempio, vi faccio un esempio pazzesco. L'azienda voleva lanciare un nuovo gusto delle sue patatine Frito-Lay. E cosa ha fatto? Ha chiesto ai consumatori online mandateci quelli che vorreste fossero i nuovi gusti delle patatine. Hanno ricevuto 5 milioni di risposte. 5 milioni. Hanno intasato Google. Hanno scelto una di queste proposte. e hanno creato questo nuovo gusto di patatina. Ma è nato dal consumatore. Siamo oltre? Siamo oltre il tempo, quindi se vuoi raccontarci magari... Allora, l'ultimo esempio era un altro esempio su Pepsi Cola che permette ai propri consumatori di creare le pubblicità addirittura. ma il punto di quello che io vi racconto è questo che il grande fenomeno è che il potere sta ormai venendo dal basso dalla collettività, dagli individui, da noi e da voi e che più noi riusciamo a spingere le aziende ad essere innovative e all'avanguardia più questo sarà un'opportunità non solo per noi ma per loro. Fatto. Grazie mille. Come di consueto chiamiamo l'ospite che verrà per il prossimo iTalk se ci vuoi dire due parole. Certo. La prossima speaker che io ho scelto è Nunzia Penelope. Nunzia Penelope è una giornalista e scrittrice giornalista per il Fatto Quotidiano. Grande... Pronto. Nunzia, Michelle. Ciao. Ciao. Io sono qui sul palco di High Talk e volevamo assicurarci che tu sarai qui con noi il 19 aprile. Ma certo. Ok. Ti pare? Non mancherei per nulla al mondo. Allora ti aspettiamo. Grazie, Nunzia. Grazie. Grazie a voi.